Hi Gingers, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale Allora, nel video di oggi voglio mostrarvi alcuni capi d'abbigliamento che mi sono stati gentilmente inviati da un'azienda L'azienda in questione è Kishel e io spero che si pronunci così perché non è che abbia capito molto però comunque ve lo lascio scritto qui sotto così almeno ogni dubbio di qualsiasi circolo astrale esistente in questo universo viene sfatato e io vi lascio il nome è scritto qui sotto questa azienda è uno dei più grandi brand di moda, di fashion presenti in Svezia infatti è un'azienda svedese situata a Stoccolma e da poco sta diventando operativa anche in Italia quindi esegue spedizioni in Italia nel giro di 1-3 giorni, a me 2 giorni ci ha messo ad arrivare il pacco infatti top vi arrivo a casa con il corriere di HL vi invito ad andare a vedere il sito prima di tutto per andare a vedere appunto quali capi d'abbigliamento ha perché sono veramente di una qualità stratosferica qua siamo veramente a livelli superiori dei classici siti d'abbigliamento che circolano un pochino qua sul web e che vengono recensiti si tratta di un marchio veramente ad alti livelli infatti lo si vede anche dal prezzo ma soprattutto appunto dalla qualità proprio dei tessuti in secondo luogo vi invito anche ad andare a dare un'occhiata al loro profilo Instagram perché ci sono tanti influencer che pubblicano foto con i loro capi d'abbigliamento quindi anche per vedere un pochino la vestibilità se c'è qualcosa che vi attira in particolar modo magari fate un saltino anche lì comunque in ogni caso io vi lascio tutto all'interno dell'info box così per voi è molto semplice andare a ritrovare tutte le varie cose vi dico solo più una cosa e poi parto subito con i capi indossati così riuscite a capire anche come vestono e di cosa stiamo parlando l'azienda gentilmente mi ha dato un codice sconto per voi del 15% ve lo lascio scritto qui in sovrimpressione ve lo lascio comunque anche questo nell'info box shopnew15, tutto scritto in maiuscolo che ha validità 5 giorni dal momento dell'uscita di questo video quindi guardate qui sotto quando è la data perché non so quando pubblicherò questo video calcolate 5 giorni e distanza di 5 giorni il codice sconto sarà valido con appunto il 15% su tutta la vostra spesa quindi non male per i prezzi che hanno appunto i capi i prodotti che mi hanno inviato sono 4 vi faccio vedere tutto indossato e vorrei partire da questa camicia che ho addosso purtroppo è l'unico capo che avrei dovuto prendere di una taglia in meno ma non mi fidavo molto e quindi sono andata sulla S mentre mi sarebbe servita un XS in ogni caso è molto comoda e molto bella il tessuto è splendido, le cuciture sono perfette ed è una camicia classica con lo scolla V nera non è sancrata quindi nel momento in cui si decide di andarla a mettere sopra ad un jeans ad esempio rimane un pochino più a sbuffo secondo me è strepitosa appunto con dei jeans un pochino stretti e un tacco tranquillamente da mettere la sera e perché no con gli accessori giusti magari anche di giorno se avete un evento in particolare o qualcosa in particolare che vi interessa essere maggiormente eleganti però che si svolge comunque di giorno o comunque nel pomeriggio secondo me non è male secondo capo d'abbigliamento che mi hanno inviato sono questi pantaloni meravigliosi semplicissimi da abbinare secondo me e molto molto versatili tra l'altro anche questi secondo me facilmente utilizzabili sia di sera che di giorno la sera magari non per un evento particolarmente elegante però per un'uscita tranquilla secondo me non sono niente male tutto il periodo estivo secondo me da utilizzare sono anche molto confortevoli, molto freschi sia con la scrappa da ginnastica che con un tacco una t-shirt semplicemente infilata all'interno o perché no magari una camicia sul bianco un pochino più sancrata insomma ha veramente un'ottima vestibilità poi a me i pantaloni di questo tipo piacciono un sacco a vita alta è uno di quei capi d'abbigliamento che secondo me all'interno dell'armadio non può mancare assolutamente ci sono ancora due capi che voglio farvi vedere che sono in assoluto i miei preferiti si assomigliano molto perché sono entrambi bianchi e entrambi 100% lino sono fantastici una vestibilità fantastica e un materiale strepitoso che io adoro l'unica pecca dell'ino è che bisogna tipo stare confezionati fermi immobili perché appena vi sedete da qualche parte o vi spostate si spiegazza tutto cioè è una cosa che odio ricordate sempre di stirare assolutamente i capi d'abbigliamento in questo tessuto perché purtroppo hanno questa grandissima pecca di stropicciarsi in tempo zero quindi il primo che vi faccio vedere è il vestito che secondo me è bellissimo e a me piace tantissimo abbinarlo con i mocassini è un vestito molto comodo anche questo da utilizzare magari la sera per una passeggiata al mare oppure di giorno non sapete cosa mettere volete un indumento molto fresco e confortevole per andare a fare una passeggiata sotto i portici e andare a fare shopping secondo me questo è top ha lo scolla V, è bianco quindi fate attenzione a non sedervi in giro perché devo dire macchiate subito ve lo dico perché io sono una pasticciona e in tempo zero mi sono seduta e si è macchiato e tra l'altro se non sbaglio c'è anche in altri colori sul sito se lo trovate però bianco secondo me richiama molto l'estate ha questi spacchi sui lati insomma è semplice ma al tempo stesso è abbastanza particolare e poi il tessuto che ve lo dico a fare lo adoro ultimo capo che vi faccio vedere è questa camicia di cui io mi sono innamorata subito una delle prime cose che ho trovato sul sito e ho detto no c'è questa deve essere mia perché anche questo è un capo abbastanza semplice ma al tempo stesso si è indossato come si deve veramente molto particolare e molto d'effetto anche questo a me piace indossarlo con i jeans stretti ed è appunto una sorta di camicetta con lo scollo a V con una cinturina in vita in modo tale da stringere appunto il punto vita e smanicato con tutti questi dettagli sul giro collo insomma è molto particolare la cosa che lo rende ancora più particolare è il fatto che davanti sia corta e dietro lunga per questo motivo io lo consiglio con un paio di tacchi oppure con un paio di scarpe da ginnastica un pochino alte a meno che non siate 1,70 giusto? io questo argomento lo faccio su di me che sono alta neanche 1,60 m e quindi la cosa rimane un pochino complicata però comunque secondo me è molto molto particolare, molto bella è un indumento molto estivo infatti lo sto sfruttando tantissimo in quest'ultimo periodo dell'estate perché non so quanto ancora reggerà il caldo però è veramente, forse è tra tutti e quattro il capo d'abbigliamento che mi è piaciuto di più perché è molto particolare, non lo so, mi piace un sacco e anche questo appunto utilizzandolo di giorno o la sera se è accessoriato come si deve è molto molto versatile niente ragazzi questi sono i 4 indumenti di cui volevo parlarvi con questa azienda io mi sono trovata veramente benissimo il personale è veramente molto disponibile quindi qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio voi abbiate potete tranquillamente scrivere una mail e fare qualsiasi domanda sono stati veramente molto gentili velocissimi nella spedizione il prodotto in sé è veramente un prodotto ottimo e di alta qualità quindi anche se doveste fare un regalo per qualcuno o per voi andate sicuramente nella direzione giusta perché è fantastico io vi lascio tutti i link dei capi che vi ho mostrato qui sotto nell'info box quindi se c'è qualcosa che vi ha particolarmente colpito potete acquistarlo direttamente sul sito vi ricordo ancora una volta che è disponibile il codice sconto del 15% valido per 5 giorni dall'uscita di questo video io spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi un commento qui sotto dicendomi quale tra questi capi vi è piaciuto di più io vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video ciao gingers